si buonasera buonasera posso entrare si prego ufficio imps 7 voi vabbè c'è anche scritto fuori mi dico una cosa praticamente mio marito è deceduto la settimana scorsa e viene all'imps si non mi risulta venere a capi chi praticamente non si può fare scrivere che ancora è vivo perché mi dico il caffè che ti dimezzano tutto lo stipendio e scusse ma io con quattro figli a carico come faccio eh signora uno sta in scena in galera pure c'è tutta l'avvocatipale guarda non siamo qua a dire le spese che ho perché ho un maverucchio non ti ci può fare scrivere che è ancora vivo a settimana è ancora cavolo va non è che e quindi ci scrivevo ma lei c'è il cittadino di molto ancora ma ancora via ma ma a me mi dicono che se farà così ma cucciorissi un cristiano con un caffè mi dice ma vuole soldi non vuole soldi signori mi perché non caldera per sempre ma stiamo scherzando anzi ho trovato me si trovavano avuto collega cioè rischiava una denuncia ma lasciare buona chissà perché intanto mio frate non è cieco e ha l'invalidità come può essere questa cosa come me la spiega è falso cieco e non lo sa nessuno solo lei non è una prova con la città ci trovavamo e inseriamo buona con la cento 4 per vedere se gli danno la pensione ho capito va allora poi magari c'è lo sentiamo altro se ha notizia mi chiama direttamente lei si è il suo numero vabbè poi ci scrivo che non biglietti di visita va bene arrivederci